Area Riformista ha l'obiettivo di fare una battaglia sui contenuti. Oggi discutiamo di lavoro, di legge elettorale, di senato, di Europa. Per quanto riguarda il lavoro il nostro obiettivo è quello di qualificare il lavoro a tempo indeterminato, soprattutto per i giovani. Ci batteremo nella legge delega che il governo ha presentato sulle pensioni. Noi sosteniamo il principio della flessibilità nel sistema pensionistico, consentire ai lavoratori di scegliere fra i 62 e i 70 anni il momento più opportuno di andare in pensione. Altrimenti generazioni più anziane che stanno al lavoro fino a 67 anni rubano il lavoro ai giovani. Non ci sarà più turnover in questo modo.